Sapete che non mi avete detto il vostro nome? Lisa Io vi dichiaro marito e moglie Dov'è Lisa? È andata fuori un momentino Vi presento la signorina Ken Dobbiamo ridarle la volontà di vivere Sono passati sette anni Lisa Ma nessun uomo può prendere il posto della madre Come prima, meglio di prima Martedì alle 20.55